ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli alimenti veterinari ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo l'alimento veterinario go informazioni commerciali titolare fm italia gruppe srl concessionario fm italia gruppe srl confezioni geo flacone da 1000 ml con misurino indicazioni mangime complementare in soluzione oleosa particolare fine nutrizionale per il supporto alla preparazione all'attività sportiva e per il successivo recupero del cavallo sportivo posologia miscelare alla razione alimentare in ragione di 20 ml capo barra giorno periodo di impiego raccomandato fino ad 8 settimane prima dell'attività sportiva fino a 4 settimane dopo l'attività sportiva fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo alimento veterinario esaminato